Previsioni per giovedì 2 dicembre. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso? Precipitazione sparsi in mattinata sul settore montano e alto collinare. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno a divenire diffusi su tutto il territorio. Limite delle nevicate attorno ai 1500 metri. Temperature stazionarie e un lievo aumento. Venti forti sui rilievi. Mare da mosso a molto mosso. Grazie a tutti.